Ben ritrovati cari amici, è finita da pochissimo in De Genova del massimo campionato di Serie A1 Primavera di Calcio Maschile 2020. I Neuro Azzurri battono il Genova a domicilio tra le mura amiche per 3 a 0 e salgono in classifica a quota 38 punti. Però il secondo posto che valgono le semifinali playoff distano 7 punti, seconda posizione occupata dal Cagliari al momento vittorioso quest'oggi. Ho fatto anche il video della partita del Cagliari. Quindi appunto chiudo, Inter-Genova 3 a 0. Il Genova parlando dei Liguri sono ancora in corsa per un boss nel playoff in attesa ovviamente dalle gare che proprio in questi minuti si stanno disputando. Inter 3 Genova a 0. Ciao a tutti!